All'ingresso della pirotecnica schiattarella un cartello avverte, vietato fumare, pericolo incendio. Eppure proprio qui, in una strada di campagna, al confine tra Giuliano e Qualiano, in località Pontericcio, poco prima delle nove si è scatenato l'inferno. Un'esplosione ammazza tre operai, quattro i feriti. Ancora una volta è una fabbrica di fuochi d'artifici a provocare morte e dolore. Il laboratorio, dove venivano confezionati i botti, è completamente distrutto. Le mura perimetrali di verte, il soffitto in lamiera squarciato. Il terreno, un tempo verde, come la campagna circostante, è grigio cenere. Nell'arco di una ventina di metri, solo detriti e macerie. Sul posto, gli agenti del commissariato di Giuliano, capitanati da Pasquale Trocino, raccolgono le testimonianze di che è vivo per miracolo. I vigili del fuoco, per ore, lotteranno contro le fiamme. La scientifica selezione indizi, scatta foto. I familiari delle vittime piangono i caduti della tragedia della schiattarella. Raffaele Vallefuoco, 65 anni. Luigi Capasso, 45 anni. I nomi dei due operai deceduti in mattinata. Il primo è morto sull'ammulanza, il secondo sul posto, carbonizzato. Poi nel pomeriggio l'ultima vittima di una strage assurda. Si tratta di Raffaele Schiattarella, uno dei proprietari della fabbrica di Qualiano. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Si pensa ad un accidente, anche perché la ditta di Qualiano era famosa nel mondo. Nel 2004, i fuochi della Schiattarella illuminano i cieli di Atene, in occasione delle ventottesime Olimpiadi. L'azienda nasce a Mugliano di Napoli nel lontano 1946, creata dal signor Antonio Schiattarella e dai suoi tre figli. Chi li conosce parla di persone cordialissime, padrone assolute del loro mestiere. Mestiere pericoloso, quello del pirotecnico. Negli ultimi 17 anni in Italia si sono registrati 60 morti a causa di esplosioni di fabbrica e di fuochi d'artificio. Di questi, ben 24 in campagna, ai quali vanno aggiunti gli altri tre operai vittime della tragedia di Qualiano. Per quanto riguarda i feriti, Salvatore Schiattarella, fratello di Raffaele, resta ricoverato al Cardarelli di Napoli. Franco Imperatore e Girolamo Schiattarella, invece, sono attualmente ricoverati all'ospedale di Pozzuoli.